ma abbiamo conquistato l'obiettivo bravo stiamo perdendo l'obiettivo charlie abbiamo perso l'obiettivo charlie vedo una mitragliottrice abbiamo conquistato l'obiettivo alzano cassetta medica arriva controlliamo tutti gli obiettivi abbiamo perso l'obiettivo alzano cassetta medica ecco stiamo perdendo l'obiettivo bravo ecco che arrivano ragazzi prendete l'obiettivo abbiamo conquistato l'obiettivo alzano scusa l'obiettivo avversi assolutamente attenzione 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 punti Abbiamo perso l'obiettivo Charlie. Abbiamo conquistato l'obiettivo Alpha. L'obiettivo è il nostro! Restiamo concentrati, ragazzi! Siamo a metà e in vantaggio. Controlliamo tutti gli obiettivi. Abbiamo perso l'obiettivo Alpha. Medico, laggiù! Controlliamo tutti gli obiettivi. Stiamo vincendo! Cassetta medica per te! Abbiamo perso l'obiettivo, bravo! Posso curare quelle ferite! Controlliamo tutti gli obiettivi. Questa cosa è la tua compliment. Ho, potete? O così, dov'è? Grazie.